Riparte dall'ottima stagione dello scorso anno, il Giuliano finito ai playoff sempre con Bertotto in panchina nonostante la cessione di Salvemini all'audace Cerignolo, la squadra che è competitiva, quella del Giuliano contro un Taranto profondamente rinnovato con problemi societari con la ricerca di un acquirente, non c'è più Ezzolino Capuano in panchina ma c'è Carmine Gautieri, il Taranto ha inserito tanti giocatori nuovi negli ultimi tre giorni di mercato, attacca con Mastro Monaco che è rimasto lo stop di Fabbro che prova a riciclare il pallone, azione un po' confusa poi la conclusione da parte di Schirru, viene ammortizzata dal portiere del Giuliano Barosi, Giuliano che si rende pericoloso con questo cross di Valdesi dalla destra, poi il contatto in area di rigore con Mastro Monaco che prova a difendersi, poi Oyewale crossa con il pallone che viene alzato in corner da Del Favero, nuovo portiere del Taranto che sta assemblando la squadra dopo l'uscita addirittura 6-0 dalla Coppa Italia contro il Benevento, l'episodio chiave arriva al 28esimo cross di Valdesi, tocco di mano di verde, occhiata fra arbitro e assistente, concessione del calcio di rigore. In favore del Giuliano dal dischetto un ex come Antonio Romano, mette la palla da una parte, il portiere va dall'altra, sblocca la partita, non esulta Romano, porta avanti il Giuliano è suo, il primo gol della stagione per la squadra campana, rigore esemplare da parte di Romano che calcia rasoterra, imprendibile per Del Favero. Nel secondo tempo ancora Romano insiste, vuole assistere per Masala, imprendibile nei primi 20 minuti, poi cala il talento scuola Cagliari, il Taranto però ha orgoglio, calcio d'angolo, De Santis con la testa, la palla picchia sul palo, occasione gigantesca per la squadra di Gautieri che prova intorno all'ora di gioco a imprimere il suo marchio, poi il Giuliano con i cambi ritrova freschezza, il Taranto a poco dalla panchina con tanti under, una squadra come detto in costruzione qui imbucata per lo stop e il destro da parte di Padula, ragazzo, arrivato in prestito dal Torino, ha già segnato due volte a Campobasso e Casertana in Coppa Italia, Ciuferri dalla panchina, si presenta così, punizione due passi e Del Favero para, ancora Giuliano, ancora Ciuferri, ispirato, libera il sinistro, piede preferito, stavolta chiude sul primo palo, trova ancora Del Favero sulla sua strada, il Taranto sembra sulle gambe nel finale di partita, insiste ancora il Giuliano con Romano, poi Giambè arriva questa conclusione, vorrebbero un fallo di mano, azione molto confusa, insiste ancora Ciuferri che tocca per Romano, crossa che attraversa tutto lo specchio della porta, nessuno può intervenire, se la cava Del Favero, se la cava il Taranto che non ha la forza però per reagire è tentativo ancora con questo esterno da parte di Maselli, pallone che finisce sul fondo, nel finale però rischio clamoroso, sbaglia Barosi e allora ne può approfittare il Taranto, dalla panchina c'è Simone, sinistro verso la porta, Barosi rimedia all'errore precedente ma che spavento al quarto minuto di recupero, è l'ultimo vero pericolo, il Giuliano chiude in attacco conquistando un calcio d'angolo che non si batterà mai, i primi tre punti della stagione per la squadra di Bertotto che batte il Taranto, 1-0